la portavoce di voi studenti ha appena detto che è stufa marcia di sentire gente che dice sono contento di non essere un giovane nel mondo di oggi beh l'unica cosa che mi sento di dire è sono contento di non essere giovane nel mondo di oggi il rettore della vostra università voleva eliminare ogni forma di pensiero negativo dal suo discorso di saluto e quindi mi ha chiesto di farvi questo annuncio tutti quelli che hanno ancora in sospeso il pagamento del parcheggio sono pregati di saldare il conto prima di uscire da questo edificio altrimenti si ritroveranno una sorpresina sul libretto quando ero ragazzino a indianapolis c'era uno scrittore umoristico di nome king hubbard ogni giorno scriveva una freddura di qualche riga per l'indianapolis news a indianapolis c'è un gran bisogno di scrittori umoristici spesso era arguto quanto oscar wilde disse ad esempio che era meglio avere il proibizionismo che stare senza alcol disse che chiunque sostenga che il sapore della birra analcolica si avvicina a quello della birra è incapace di misurare le distanze l'ho per scontato che le cose veramente importanti vi siano già state insegnate nel corso dei quattro anni qui e che non abbiate bisogno di sentire granché dal sottoscritto buon per me ho solo una cosa da dire in pratica questa è la fine questa è sicuramente la fine dell'infanzia ci dispiace tanto come dicevano durante la guerra del vietnam forse avete letto il romanzo le guide del tramonto di arthur clark uno dei pochi capolavori della fantascienza tutti gli altri li ho scritti io nel romanzo di clark i personaggi sono soggetti a mutamenti evolutivi fenomenali i figli diventano molto diversi dai genitori meno fisici, più spirituali e un bel giorno si uniscono tutti a formare una sorta di colonna di luce che parte spiraleggiando verso l'universo per una missione sconosciuta il libro finisce lì voi ragazzi tuttavia assomigliate molto ai vostri genitori e dubito che schizzerete radiosamente nello spazio appena avrete il diploma in mano è molto più probabile che andate a Buffalo Rochester o Escorg e immagino che tutti voi desideriate fra le altre cose fare soldi e trovare il vero amore ve lo dico io come fare soldi lavorate molto sodo ve lo dico io come trovare l'amore vestitevi bene e sorridete sempre imparate le parole di tutte le canzoni appena uscite che altri consigli posso darvi? mangiate tanta crusca in modo che la vostra dieta abbia il necessario apporto di fibre l'unico consiglio che mio padre mi abbia mai dato è stato questo non ti ficcare niente nelle orecchie dentro le orecchie ci sono le ossa più piccole di tutto il corpo umano lo sapete? e anche il senso dell'equilibrio se vi maltrattate le orecchie rischiate non solo di diventare sordi ma anche di cadere per terra in continuazione quindi lasciateli in pace danno benissimo così come sono non ammazzate nessuno anche se nello stato di New York non è in vigore la pena di morte in pratica questo è quanto un'altra cosa che potreste fare come optional per rendervi conto che ci sono sei stagioni non quattro la poesia delle quattro stagioni è completamente sbagliata per questa parte del pianeta ecco forse perché siamo quasi sempre così depressi insomma spesso e volentieri la primavera non sembra affatto primavera e novembre non c'entra niente con l'autunno e così via ecco la verità sulle stagioni la primavera sono maggio e giugno cosa c'è di più primaverile di maggio e di giugno? l'estate sono luglio e agosto fa un caldo boia no? l'autunno è settembre e ottobre le vedete le zucche? sentite l'odore di quel falò di foglie secche poi viene la stagione chiamata chiusura è il periodo in cui la natura chiude i battenti novembre e dicembre non sono l'inverno sono la chiusura poi arriva l'inverno gennaio e febbraio accidenti quanto sono freddi e poi cosa arriva? non la primavera la riapertura? che altro potrebbe essere aprile? un ulteriore consiglio facoltativo se mai doveste trovarvi a tenere un discorso cominciate con una battuta se ne sapete una sono anni che cerco la battuta più bella del mondo credo di averla trovata adesso ve la dico però dovete aiutarmi dovete dire no quando alzo la mano così d'accordo? mi raccomando sapete perché la panna è tanto più costosa del latte? no perché le mucche odiano accucciarsi su quei cartoni così piccini questa è la battuta più bella che conosco una volta quando lavoravo per la General Electric a Senectady dovevo scrivere dei discorsi per i dirigenti d'azienda in un discorso per un vicepresidente ci misi la battuta sulle mucche e i cartoni piccini il tizio stava leggendo il discorso e quella battuta non la conosceva ha cominciato a ridere e non è più riuscito a smettere hanno dovuto portarlo via perché gli sanguinava il naso il giorno dopo mi hanno licenziato come funzionano le battute di spirito? quando sono belle l'inizio vi spira sempre a pensare siamo animali talmente pronti a prendere le cose sul serio quando vi ho fatto quella domanda sulla panna non siete riusciti a trattenervi avete davvero cercato di pensare a una risposta sensata perché il pollo attraversa la strada? perché i pompieri portano le bretelle rosse? perché hanno seppellito George Washington sul fianco di una collina? la seconda parte della battuta annuncia che nessuno vuole che pensiate nessuno vuole sentire la vostra splendida risposta è un tale sollievo incontrare finalmente qualcuno che non vi chieda di essere intelligenti si ride di gioia in effetti ho progettato tutto questo discorso per permettervi di essere stupidi quanto volete senza stress e senza punizioni di alcun genere ho perfino scritto una canzonzina ridicola per l'occasione non ha la musica ma di compositori è pieno il mondo uno di sicuro si farà avanti le parole fanno così addio ai professori con questa cerimonia andiamo a fare festa ma con parsimonia ti amo così tanto Sonia che voglio comprarti una begonia anche tu mi ami vero Sonia? visto? stavate cercando di indovinare quale sarebbe stata la rima successiva ma non importa a nessuno quanto siete intelligenti sto facendo lo scemo in questo modo perché provo molta pena per voi provo molta pena per tutti noi la vita tornerà ad essere molto dura appena finirà tutto questo e il pensiero più utile a cui potremo aggrapparsi quando si scatenerà di nuovo l'inferno è che non siamo membri di generazioni diverse tanto di simili fra loro come alcuni vorrebbero farsi credere quanto gli eschimesi e gli aborigeni australiani siamo tutti così vicini nel tempo che dovremmo considerarsi fratelli e sorelle io ho parecchi figli sette per la precisione decisamente troppi per un ateo e ogni volta che i miei figli si lamentano con me per lo stato del pianeta rispondo state zitti io qui ci sono appena arrivato mi avete preso per Mattusalemme pensate che le notizie del telegiornale mi piacciono più che a voi mi sbagliate in questo momento stiamo tutti condividendo più o meno lo stesso arco di vita cos'è che le persone un po' più anziane vogliono dalle persone un po' più giovani che li riconoscano il merito di essere sopravvissute così a lungo e spesso in maniera creativa in condizioni difficili le persone un po' più giovani sono intollerabilmente restie a riconoscere questo merito cos'è che le persone un po' più giovani vogliono dalle persone un po' più anziane più di tutto credo vogliono che venga ammesso senza ulteriori indugi che sono ormai uomini e donne a tutti gli effetti le persone un po' più anziane sono intollerabilmente restie ad ammetterlo perciò mi prendo io la responsabilità di dichiarare questi giovani che si laureano oggi uomini e donne nessuno deve più trattarli come bambini e loro non devono più comportarsi come bambini mai più questo è un cosiddetto rito di passaggio all'età adulta mi rendo conto che arriva un po' tardi ma meglio tardi che mai ogni società primitiva che sia mai stata studiata aveva un rito di passaggio all'età adulta con il quale quelli che prima erano bambini diventano indiscutibilmente uomini e donne alcune comunità ebraiche onorano tuttora questa antica pratica come sappiamo e secondo me ne traggono beneficio ma in generale le società ultramoderne massicciamente industrializzate come la nostra hanno deciso di sbarazzarsi dei riti di passaggio all'età adulta a meno che non si voglia contare il rilascio della patente di guida a 16 anni se lo si vuole contare va detto che come rito di passaggio ha comunque una caratteristica molto insolita l'età adulta può essere successivamente revocata da un giudice anche a una persona anziana come me un altro evento nella vita dei maschi americani ed europei che potrebbe essere considerato un rito di passaggio è la guerra se un maschio torna a casa della guerra invece si è riportato ferite serie tutti concordano quello è indubbiamente un uomo quando sono tornato a casa a Indianapolis dopo aver combattuto in Germania nella seconda guerra mondiale un mio zio mi disse perbacco adesso si che sembri un uomo avrei voluto strangolarlo se l'avessi fatto sarebbe stato il primo tedesco che uccidevo era un uomo anche prima di andare in guerra ma lui col cavolo che l'avrebbe ammesso io avanzo l'ipotesi che privare i giovani maschi di un rito di passaggio all'età adulta nella nostra società attuale sia un espediente ideato in maniera astuta ma inconscia per rendere quei maschi ansiosi di andare in guerra per quanto possa essere terribile o ingiusta una guerra esistono anche guerre giuste ovviamente si dà il caso che la guerra in cui ero ansioso di combattere io fosse giusta e quando è che una femmina smette di essere una bambina e diventa una donna con tutti i diritti e privilegi che ne conseguono la risposta la sappiamo tutti istintivamente quando fa un figlio all'interno del matrimonio è chiaro se quel primo figlio lo fa fuori del matrimonio è ancora una bambina cosa potrebbe essersi di più semplice più naturale più ovvio qual giorno d'oggi è in questa società di più ingiusto insignificante e semplicemente stupido secondo me faremmo meglio per il nostro stesso bene a ripristinare i riti di passaggio all'età adulta non solo dichiaro questi giovani che si laureano oggi uomini e donne con tutti i poteri concessimi li dichiaro anche di Clark molti di voi sapranno senz'altro che tutti i bianchi di nome Clark discendono ad abitanti delle isole britanniche che si distinguevano per la loro capacità di leggere e scrivere un nero di nome Clark ovviamente discende con ogni probabilità da qualcuno che era costretto a lavorare senza pago né diritti di alcun tipo per un bianco di nome Clark famiglia interessante i Clark mi rendo conto che voi neolaureati avete tutti un certo grado di specializzazione ma di fatto avete passato buona parte degli ultimi 16 anni o più a imparare a leggere e a scrivere gli individui che sanno farlo bene come voi sono un miracolo e per come la vedo io ci danno il diritto di sospettare che forse in fondo siamo davvero persone civili imparare a leggere e scrivere è tremendamente difficile ci vuole un'eternità quando rimproveriamo i nostri insegnanti per i bassi punteggi dei loro studenti nelle prove di lettura fingiamo che sia la cosa più facile del mondo insegnare a qualcuno a leggere e scrivere provateci qualche volta e scoprirete che è quasi impossibile a che serve essere un Clark adesso che abbiamo i computer i film e la tv Clarkeggiare attività assolutamente umana è qualcosa di sacro la tecnologia no Clarkeggiare è la forma di meditazione più profonda ed efficace praticata su questo pianeta e supera di gran lunga qualunque sogno fatto da un guru indiano in cima a una montagna perché? perché i Clark leggendo bene sono in grado di pensare i pensieri delle menti umane più saze e più interessanti di tutti i tempi quando i Clark meditano anche se personalmente hanno solo un intelletto mediocre meditano con tutti i pensieri degli angeli cosa potrebbe esserci di più sacro? e questo è quanto infatto di età adulta e di Clark rimangono da trattare soltanto due altri argomenti fondamentali la solitudine e la noia qualunque sia la nostra età in questo momento è sicuro che durante il resto della nostra vita ci annoieremo e ci sentiremo soli ci sentiamo così soli perché non abbiamo abbastanza amici e parenti gli esseri umani dovrebbero vivere in famiglie allargate stabili di mentalità fine composte almeno di 50 persone ciascuna la portavoce di voi studenti ha lamentato la crisi dell'istituzione del matrimonio in questo paese il matrimonio è in crisi perché le nostre famiglie sono troppo piccole un uomo non può rappresentare un'intera società per una donna e una donna non può rappresentare un'intera società per un uomo ci proviamo ma c'è poco da meravigliarsi se così tanti di noi non reggono quindi consiglio a tutti i presenti di entrare a far parte di associazioni di ogni tipo per quanto possono essere ridicole semplicemente per avere più persone nella propria vita poco importa se tutti gli altri membri sono dei coglioni quello che ci serve è un gran numero di parenti di qualunque tipo quanto alla noia Friedrich Wilhelm Nietzsche filosofo tedesco morto 78 anni fa aveva da dire questo contro la noia perfino gli dèi combattono in vano è normale annoiarsi fa parte della vita imparate a tollerarlo altrimenti non sarete mai quello che ho dichiarato che siete voi neolaureati uomini e donne maturi concludo facendovi notare che la stampa che si occupa di sapere e capire tutto spesso constata che i giovani sono apatici specie quando gli opinionisti e i commentatori non trovano altro di cui parlare o scrivere la nuova generazione di laureati forse non ha assunto un certo tipo di vitamine o di minerali magari di ferro hanno il sangue stanco serve il geritol beh in quanto membro di una generazione più vispa con un luccichio negli occhi e il passo scattante vi voglio dire cosa c'è che ci teneva belli e carichi quasi tutto al tempo l'odio per tutta la vita ho avuto gente da odiare da Hitler a Nixon non che siano minimamente paragonabili nella loro malvagità è tragico forse che gli esseri umani riescano a trarre così tanta energia ed entusiasmo dall'odio se vi volete sentire alti tre metri e capaci di correre per cento chilometri senza fermarvi l'odio batte di gran lunga la cocaina pura Hitler ha fatto risorgere un paese sconfitto in bancarotta e mezzo morto di fame grazie all'odio e nient'altro pensate un po' perciò a me sembra abbastanza probabile che i giovani di oggi negli Stati Uniti d'America non siano effettivamente apatici ma lo sembrino soltanto alla gente che è abituata ad arrivare all'estesi attraverso l'odio insieme ad altre cose ovviamente i ragazzi che si laureano qui oggi non sono sonnacchiosi non sono indifferenti non sono apatici stanno solo portando avanti l'esperimento di fare a meno dell'odio e l'odio la vitamina o il minerale o come lo vogliamo chiamare che manca nella loro dieta si sono accorti giustamente che l'odio a lungo andare è nutritivo quanto il cianuro quella in cui si stanno cimentando è un'impresa molto esaltante e gli faccio i miei migliori auguri e gli faccio i miei migliori auguri e gli faccio non sono di un'impresa di un'impresa e gli faccio che vede è un'impresa e gli faccio